FitActive è una catena di palestre, abbiamo aperto domenica la 126esima palestra in Italia e abbiamo in procinto un piano di sviluppo importante che ci porterà entro la fine dell'anno ad arrivare circa 150 o più palestre aperte in Italia, in Europa e nel mondo. Parlo del fatto che ogni giorno a un certo punto che io passavo nel mio ufficio lì a Seveso e vedevo di non aver fatto uno scalino in più in qualche maniera, sentivo di aver perso un giorno. Mi sono ritrovato a fare i primi abbonamenti in palestra sul cofano della mia auto con le luci accese. Questo è stato l'inizio, ogni 10 anni ti devi guardare indietro e la tua azienda non può essere quella di 10 anni prima. È talmente strutturato in maniera automatizzata tutto ciò che io scopro a volte che stiamo aprendo una determinata palestra e non ha determinato luogo perché vedo la pubblicità su Facebook. Perché Romania? Perché Brasile? Perché Spagna? Ma sempre parlate i tuoi algoritmi che hai creato? Qualcosina. Allora, c'è un algoritmo che si chiama Brasile e che è mia moglie brasiliana. Mi arrivano le mail, il mio lavoro è a chi posso inoltrare. Quando trovo una mail che va a finire in un ambito dove non ho a chi fare inoltre... Cazzo mi tocca farlo a me. Cazzo questo modo lo devo fare io, uno. E due dico, eh no ma devo strutturare un qualche cosa che c'è chi se gestisce sta roba qui. Perché qua abbiamo una falla se lo devo fare io. Ti rispondo, sono contento di risponderti a questa domanda. Io ho molti meno soldi di quello che può sembrare. Mi piace di più, mi dà più soddisfazione vedere la mia azienda che cresce rispetto al mio conto corrente che cresca. Solo l'1% dice oggi ho questo ostacolo in più. Un modo, una soluzione per oltrepassarlo, girargli attorno, la trovo. Bene, benvenuti in questo nuovissimo episodio dell'1% Podcast. Oggi abbiamo un super, iper ospite 1%. C'è Edoardo Montefusco. Ciao Edoardo. Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. Edoardo è il fondatore e amministratore della Fit Active. Che voglio dire, è una cosa che mi piace tantissimo perché quando si parla di fitness io sono molto attivo nell'ambito fitness. E sono veramente entusiasta di averti qui, come ti dicevo prima del podcast, Edoardo, perché ho un sacco di roba da chiederti. Bene, bene, siamo qua apposta. E come al solito, e come ti dicevo sempre prima del podcast, io di solito faccio le domande per me più che per gli ospiti, ma poi anche gli ospiti ci dicono che ci danno feedback e che sono ottime domande, quindi scaturiscono ottime risposte anche per loro. E qui sarà un'intervista molto ricca di domande perché sono molto curioso su molti aspetti. Intanto, Edoardo, ti fa di raccontarci cosa è Fit Active? Fit Active è una catena di palestre, abbiamo aperto domenica la 126esima palestra in Italia, dico in Italia perché ne abbiamo una già aperta a Barcellona e Spagna e abbiamo in procinto un piano di sviluppo importante che ci porterà probabilmente, entro la fine dell'anno, ad arrivare circa a 150 o più palestre aperte in Italia, in Europa e nel mondo. Perché abbiamo cominciato, abbiamo firmato la nostra apertura, la prima apertura in Svizzera a Lugano, stiamo aprendo due palestre in Romania a Bucharest e abbiamo firmato e sono partiti i lavori di costruzione anche dalla prima palestra fuori Europa in Brasile, nel sud del Brasile a Curiciba. Fit Active è questa catena che ormai esiste da un po' di anni, il cui idea principale è quella di permettere un fitness conveniente e agevole a tutti, aperto 24 ore su 24, 19,90€ al mese e con un solo abbonamento puoi accedere a tutte le palestre aperte che apriranno. Ed è bellissimo perché anche solo a Milano, tu hai 4 sedi mi hai detto prima, a Milano, io vedo comunque pubblicità ovunque di Fit Active, quindi parliamo anche di marketing, parleremo di tante cose. Facciamo tantissima pubblicità, il budget destinato alla pubblicità è cresciuto nel corso del tempo sempre più, siamo arrivati ed è stato per me un orgoglio negli anni scorsi ad arrivare a essere nelle major tv nazionali quali Mediaset, La7, Sky e altre con importanti campagne, importanti investimenti pubblicitari. Immagino, immagino, già qualcuno che è stato qui, credo fosse Fabrizio, ha investito in Mediaset con qualche pubblicità e mi ha detto più o meno il costo, te lo chiederò anche in questo podcast. Ma detto questo, prima di parlare di tutto questo, secondo me in questo podcast ci sono tante cose interessanti, marketing, vendite, ma mi piace molto e credo che appena hai iniziato a parlare, anche a chi ascolta, incuriosisca il fatto della duplicazione, di quanto velocemente state duplicando e replicando e scalando questo business, perché questo proprio significa scalare. Per tutti quelli che ci ascoltano non significa passare da 0 a 100k l'anno, ma significa duplicare velocemente qualcosa che funziona. Ora, intanto ti chiedo come sempre, dove è nata, come nasce Fit Active? Allora, guarda, Fit Active nasce da un percorso che non si è sviluppato in poco tempo. Io parto a fare questo lavoro nell'ambito del fitness nel luglio del 2006. Apro la prima struttura il 19 marzo del 2007, ormai 17 anni fa. Quanti anni avevi? Io ho 24 anni, sono dell'82, 24 anni nel momento in cui mi metto nel campo del fitness e 24 anni e mezzo quando apriamo la prima struttura. La prima struttura non è una Fit Active, la prima struttura è un modello di palestra completamente diverso. E ci vorranno la bellezza di 5 anni, di tentativi dietro altri tentativi, di insuccessi, di situazioni che non funzionano, di un'irrequietezza dell'animo, nella quale non trovavo degli sbocchi, perché non mi accontentavo di avere quella singola palestra nata. Quanto fatturava più o meno quella palestra? Quella palestra fatturava circa 700 mila euro di attività fitness, più un 200-250 di attività varie, perché avevamo, e abbiamo ancora, questa palestra esiste ancora, un centro estetico e un parrucchiere. Ok, tu già a 25-26 anni, a grande linea, facevi su un milione di fatturato, insomma. Sì, tieni presente che avevo altri soci, tieni presente che a quell'età ero uno dei soci meno importanti del gruppo di soci. Ok. Io inizio e divento amministratore di quella prima struttura nel 2009, quindi due-tre anni dopo. E poi, ne divento amministratore, ne divento amministratore e inizio ad applicare tutta una serie di dinamiche commerciali e marketing che avevo acquisito in quegli anni, facendo dei corsi, studiando, provando. E nel 2009 fatturo, da quando sono io amministratore, il 30% in più. È quello l'anno nel quale iniziamo a raggiungere i 700 mila euro di fatturato, il milione con anche quello che sono le attività estetiche e collaterali. Nel 2010 aumentiamo ancora di un ulteriore 10%, ma mi sentivo stretto. Quando ti parlavo di irrequietudine dell'animo, parlo del fatto che ogni giorno, a un certo punto, che io passavo nel mio ufficio lì a Seveso, e vedevo di non aver fatto uno scalino in più, in qualche maniera, sentivo di aver perso un giorno. E quindi la mia, diciamo, attitudine... E ero un po' costretto dagli altri, anche dagli altri soci? Un po' ero costretto, più che dagli altri soci, dal fatto di non trovare un qualche modo per ingrandire il business. E quindi provai tante cose, sia sul business del fitness, ma anche facendo altre attività completamente scollegate, un centro fisioterapico, un ristorante, altro ancora, servizi di consulenza per altre aziende. Finché, anni dopo... Ti faccio una domanda, prima di andare oltre. Prego. Per me sono due punti chiavi da approfondire leggermente. Il primo è, a 24 anni, quando ho iniziato, 23-24 anni, come ti è venuta in mente l'idea di entrare, come sei entrato con qualcuno in un'azienda, prima in un'azienda? Allora, allora dobbiamo fare un passo indietro. Sì. Allora facciamo un passo indietro. Più rapido possibile, ma per me è importante farlo. Inizio a lavorare dieci giorni prima che compio, 18 anni, come consulente informatico per delle società di intermediazione bancaria. Oggi si chiama Nexi, ha cambiato 50 nomi. Quando ci ho iniziato a dire, si chiamava Seiceti, oggi si chiama Nexi, gestisce le carte di credito. Sviluppavo software. Ok. Sviluppavo il fluss interbancari, si chiama esattamente il CBI, Corporate Banking Interbancario, e sviluppavo i primi Remote Banking, non Internet Banking, ma sempre a partita IVA, ho sempre lavorato a partita IVA. Quindi il mio core business era quello di andare in ufficio a Milano, nella sede della Seiceti, a Inganni, la fermata del metro Inganni, 7-8 ore al giorno, uscivo di lì e cercavo degli altri miei piccoli clientini. Piccoli clientini, quali magari vicino a casa mia dove abitavo, o il mobiliere che voleva il sito web, la gestione in magazzino di un ortofrutta, e tanti piccoli clientini, con l'idea sempre, che ho sempre avuto, a un certo punto di mettermi veramente in proprio e costruire qualcosa di mio. In questo peregrinaggio alla ricerca di vari clientini, un giorno mi iscrivo in palestra, era il 2004, e quando sto compilando la domanda di iscrizione, passa il titolare del tempo, vede che in uno dei campi, insomma, avevo scritto sviluppatore software, e mi dice, ma cavoli, ma tu fai lo sviluppatore software, io avrei bisogno di un programma che fa questo, questo e questo, di un sito web, che non ce l'ho, questo, quest'altro, quest'altro, io inizio a sviluppare. Inizio a sviluppare, ti dirò, inizio a sviluppare, avevo fatto un preventivo, non mi ricordo di quanto, di x migliaia di euro, ma inizio a sviluppare molto più delle funzioni che avevo preventivato, così, gratuitamente, perché mi ci appassiono le cose che faccio, e perché mi viene spontaneo, perché lo faccio anche oggi, tutti i giorni, perché mi piace. Vengo da una famiglia normotipo, il primo anno e mezzo di lavoro ho aiutato i miei a chiudere il mutuo della prima casa, l'ho dato in casa, quindi non vengo da una famiglia benestante, ma ho sempre lavorato per passione. Facevo questo software, andavo, facevo una funzione in più, pensavo, dicevo, ma guarda, ho pensato che vi potrebbe servire anche questa funzione, non ne parlavo neanche più col titolare, andavo dalle ragazze in reception, gliela spiegavo e gli dicevo, secondo me sarebbe carino che se c'è il compleanno della persona, vi compare qua nel software, puoi chiamare, puoi dare un regalino. Oppure il sito web ho fatto che puoi accedere e fare questa cosa, quest'altra e quest'altra. Questa propensione a dare qualcosa in più rispetto a quello per cui si è pagato ha fatto sì che due anni dopo, quando questa palestra ha avuto dei problemi e il proprietario doveva spostarsi e contemporaneamente anche ingrandirsi, automaticamente questa propensione che io ho avuto ha fatto sì che mi mettesse in luce e quando lui ha dovuto pensare ad un socio che doveva entrare nella compagine societaria, ha pensato a me per i buoni rapporti lavorativi e la mia propensione al fare che aveva visto e sperimentato in quei due anni. Quindi, quando mi chiese se volevo diventare socio, io facendo questo software avevo qualche numero sotto controllo, capisco oggi che avevo una visione parzialissima, ma mi buttai e dissi… Ti ha chiesto di pagare delle quote? Assolutamente, io praticamente pagai tutta la mia esperienza lavorativa da dove sono partito, è partita con 30.000 euro, 20 ce li avevo da parte e 10.000 euro feci un fido a scalare, una sorta di finanziamento, dove la banca di Legnano, di Limbiate, la filiale di Limbiate mi aveva dato 10.000 euro e ogni mese dovevo rientrare di 1.000 euro. Quindi io dovevo tenere il lavoro da informatico, sviluppare, cioè lavorare lì per potermi pagare il finanziamento. Quindi cosa accadde? Accadde che io venni catapultato completamente in un altro mondo, da nerd informatico davanti a un computer 7-8 ore al giorno, finì a fare il venditore di abbonamenti. Ma come finì a farlo? Fino alle 17, dalle 8 alle 17, dalle 9 alle 17 lavoravo in un ufficio a inganni. Poi prendevo la macchina, un'ora di macchina, arrivavo a Seveso in via Sabotino 58. Dov'è questo centro ancora? Dove c'è il primo centro, quindi una cittadina fuori, nella Brianza, in una zona periferica, ma nella zona periferica della città periferica. E avevamo fatto una svolantinata col mio numero di cellulare, che è ancora lo stesso di oggi. Mi chiamavano, io prendevo appuntamenti dalle 18 in poi, arrivavo lì in questa zona periferica, non era ancora urbanizzata dal comune, non c'erano i lampioni, non c'era l'asfalto fatto, il capannone erano solo sei colonne, non c'era recinzione, non c'erano i serramenti, nella tromba delle scale il vano per l'ascensore era vuoto. Arrivavano le persone, io ci avevo preso appuntamento, e con un foglio in mano, un foglio in mano, un layout di quella che sarebbe stata la struttura, all'età di 26 anni spiegavo quello che lì sarebbe sorto, facendo immaginare alle persone. Quindi ai clienti di una palestra, possibili clienti, tu gli prevendevi? Facevamo le prevendite, questa dinamica per la quale vendi prima, scontato, l'abbonamento, perché lo utilizzeranno dopo. E siccome iniziai la prevendita nel settembre del 2006, con l'arrivo dell'autunno e l'imbrunire che arrivava prima, i lampioni che finivano 100 metri prima in via Sabotino 58, mi sono ritrovato a fare i primi abbonamenti in palestra, sul cofano della mia auto con le luci accese. Questo è stato l'inizio. Iniziai così e vendendo abbonamenti, vendendo abbonamenti, in quel momento senza nessuna tipologia di pratica, senza nessuna tipologia di esperienza, facendo solo tentativi su tentativi, ho iniziato ad acquisire qualche skills, qualche capacità sulla vendita. E lei aveva studiato qualcosa sulla vendita? Fino a lì, in quel momento? In quel momento niente, non avevo studiato niente. Mi era stato, avevo visto come bisognava raccontare una palestra e che cosa le persone si aspettavano di trovare o quello sul quale noi dovevamo puntare per far immaginare, ma veramente fu una questione di 10 minuti. Ed è molto interessante perché io trovo due cose interessanti che veramente si allineano con quello che faccio io, e che ho fatto io, perché sono un developer e mi ritrovo molto nel fatto che io mentre lavoravo per una software house, tu lavorai per Nexi, io volevo creare il mio business, nonostante anche che ho chiesto a loro di entrare in società, però loro mi hanno detto, guarda, non lo facciamo, ma anche se lo facessimo, dovresti pagare una quota, cosa che io non avevo nemmeno 20k a parte, quindi non potevo, ma nemmeno volevano loro. Quindi mi sono messo in proprio e ho cominciato a fare dei software come i tuoi, per un fustelificio, mi ricordo, per una palestra, per tutto quanto. Ed era molto semplice. Questa è la prima volta che io vedo un developer che è diventato un imprenditore, che intervisto ce ne saranno tanti, no? Però che passare da developer a venditore è una skill molto, molti pensano che sia simile, ma è completamente diverso. È completamente diverso. E poi l'altra cosa, l'offerta, noi insegniamo ai nostri clienti quello che tu hai fatto, non so se spontaneamente o insomma, l'offerta compromesso, ovvero tu paghi di meno, hai dei vantaggi in più per comprare qualcosa che non esiste ancora, no? Quindi che sarà, ti vendo questo, ma con il tuo feed, tu sai che non è perfetto, ma mi dà anche il feedback per migliorarlo, che è una cosa che insegniamo sempre, anche noi lanciamo ogni prodotto o servizio in questo caso, è un win per tutti. Tanta roba, quindi sei nato con una prevendita a 24 anni, tanta roba veramente? Non è farina del mio sacco, nell'ambito del fitness era una dinamica che già si attuava e che io ho applicato anche a quella che era la nostra prima struttura. Ma Fit Active nasce solo 5 anni dopo, 6 anni dopo, quando si attua la capacità di replicabilità. Di replicabilità. Ora, l'altra cosa che ti volevo chiedere, oltre a come hai iniziato, che secondo me è stato super interessante, sono contento di averti fatto questa domanda, l'altra cosa che ti volevo chiedere è, come mai sei passato come amministratore dopo 5 anni? Cioè perché tu sei diventato a capo di questa azienda? Cosa è successo? Nella prima palestra, intendi? Sì, nella prima palestra. Allora, la prima palestra apre il 19 marzo del 2007 e io ne divento amministratore due anni dopo, nel 2009. Ok. Ne divento amministratore perché il socio del tempo, quello con il quale ero entrato in questo mondo, dopo due anni cerca sostanzialmente delle altre vie, degli altri sbocchi e anche il fatto degli altri business perché voleva, insomma, cambiare un pochettino il settore. In quel momento lì, accade una cosa particolare, che è la seguente. È il 2009, quindi ho 26 e mezzo, quasi 27 anni, e fatto di diventare amministratore era per me un peso di responsabilità molto importante. Non sapevo che cosa significasse. I due anni precedenti, io ero un socio lavoratore, ma quasi alla stregua di un dipendente, non avevo menzione dei conti, non avevo menzione di quelle che erano anche solo le uscite o i debiti. E tra l'altro avviene un'altra cosa, che quando io prendo in mano l'azienda, ce l'ho ancora conservato questo foglietto nel mio armadio in ufficio, quando io prendo l'azienda, prendo l'azienda dopo due anni che ha 417 mila euro di debiti, a quel tempo, nel 2009, con alcuni pignoramenti in corso, con una decina di giorni dopo, che io ne sono amministratore, con l'arrivo di un decreto di sfratto esecutivo. Ecco perché ti hanno lasciato l'azienda. Decreto di sfratto, che come tu saprai, è attuabile, si attua 30 giorni dopo. E quindi per me, nella mia mente, vi è stato il grande, grandissimo peso di dire, cavoli, se per due anni precedenti chi aveva esperienza non è venuto a capo di questa situazione, come ce la posso fare io? In realtà ho scoperto che questo era una falsa paura, perché lavorando, impegnandosi, mettendosi la testa su quello, applicandosi, studiando. Io mi rimboccai le maniche, ogni giorno ero lì, attuai delle semplici dinamiche commerciali, iniziai a fare del recall, iniziai a mettere delle persone che richiamavano per chi stava scadendo l'abbonamento, iniziai a mettere delle persone che chiamavano i clienti per sapere se si trovavano bene, se non si trovavano bene, cosa potevamo fare di meglio. Niente, te la faccio breve. Quell'anno, come ti dicevo, fatturammo il 30% in più. Io arrivai prima dei 30 giorni dal giudice a pagare tutto il debito di quello che era l'affitto non pagato e in quell'anno del 2009 pagai tutti i debiti, i 417 mila euro di debiti che non erano stati pagati prima e che pagai tutti i debiti e da quell'anno, da quando sono diventato amministratore, io fondamentalmente ho scoperto la caratteristica in me di essere un ottimo pagatore, regolarissimo, ho organizzato la nostra azienda che anche quando ha debiti ma ha delle rate, delle scadenze, sia con le banche che con i fornitori privati, in una maniera così precisa che ti puoi sistemare l'orologio. e quindi i miei fornitori oggi che abbiamo 126 palestre sono gli stessi di più di 10 anni fa quando sono partito. Pensa e questo perché hai messo in pratica delle cose che poi non costano niente nel senso che mettere persone costano però chiamare il cliente non è che costa più di quel tanto vuol dire costa azione e tempo e molte persone purtroppo molte aziende non lo fanno e non crescono anche per quello no? Senti ma tu avevi studiato qualcosa la prima volta che vendevi non avevi studiato mi hai detto ma poi a livello commerciale mi hai detto che ho cominciato a formarti sì ho fatto tutta una serie di corsi di formazione quanti più potevo ne facevo ci sono stati in Italia o anche all'estero? no fondamentalmente in Italia purtroppo mi rammarico di non averne fatti all'estero ma il mio livello di inglese diciamo lo devo migliorare è tale da riuscire magari avere delle conversazioni non da seguire dei corsi comunque hanno funzionato anche in Italia c'è della qualità e poi tanta esperienza tanta sul campo io quando sono partito nel 2007 il 19 marzo del 2007 lavoravo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 22.30 il sabato dalle 9 alla 19 la domenica dalle 9 alle 17 non mi sto sbagliando non c'era giorno di pausa questo per tutto un anno non avevo una persona con cui girarmi e chiedere il cambio non c'era ero solo nella reception e mi viene un po' mi prende sempre un po' l'emozione quando lo racconto ma perché molti pensano che sia facile adesso diremo anche il fatturato fra un attimo perché non lo chiedo mai subito perché tengo un po' sulle spine però qui si parla di diversi milioni questo già lo possiamo anticipare diversi diversi nel senso tanti e quando si inizia c'è un momento soprattutto poi più avanti continua di solito perché è uno che gli piace lavorare e lavora parleremo anche di questo ma c'è un momento all'inizio in cui devi lavorare sabato domenica a me abbiamo molti haters che dicono tu la domenica dici di lavorare ma fatti una vita ma fatti una vita dipende cosa vuoi nella vita nel senso vuoi fare i milioni o vuoi grattarti i marroni scusami il termine ma questo è è una costante che noi vediamo su chi fa tanto e viene qui e fa numeri importanti cazzo si lavora ovviamente poi parleremo anche del tipo di lavoro perché secondo me non ti pesa più di quel tanto per come la vedo io ma poi ne parleremo quanto è importante però secondo te la vendita la vendita saper vendere saper portare una persona a darti dei soldi a fare una transazione per un'attività ce la voglio dire guarda allora io ho questa regolina seguo questa regolina che è dalle stalle alle stelle e dalle stelle alle stelle ogni azienda ritengo che ogni azienda il primo passo per passare dalle stalle alle stelle è la vendita o comunicazione quindi comunicare il proprio prodotto in una maniera approfondita nel miglior metodo nel miglior modo possibile e quindi automaticamente poterlo vendere alle persone interessate primo step prima cosa più importante di ogni azienda il settore commerciale dopo di che ovviamente quello che il commerciale ha venduto quello che ha comunicato deve essere sostenuto dal servizio prodotto questa è la normalità quindi ho venduto ho detto che quello è il divano più comodo del mondo se ho detto che è il più comodo del mondo dovrà essere il più comodo del mondo perché altrimenti oggi domani dopo domani non ne venderò più poi per rimanere dalle stelle alle stelle si fa in un solo modo che è innovando continuamente innovando ogni dieci anni ti devi guardare indietro e la tua azienda non può essere quella di dieci anni prima tipo fammi un esempio non so ci sono tantissime aziende che nel corso degli anni non innovando hanno perso la loro quota di mercato ma nell'elettronica è pieno dalla Nokia Blockbuster Nokia Polaroid noi non dobbiamo cadere in questo errore oggi uno dei compiti miei più importanti è avere una visione di lungo termine e pensare come sarà Fit Active tra 5 6 10 anni rispetto ad oggi quindi ti rispondo che è assolutamente fondamentale l'aspetto commerciale in ogni azienda non nella nostra in ogni è il primo tassello è anche vero che nel corso degli anni il mio modo di essere è proprio cambiato potrei dirti che c'è stata un'evoluzione a cominciare secondo me dal 2016 2017 dove precedentemente ero un venditore serrato la persona entrava nelle mie palestre e io pensavo solo ed esclusivamente a come fare per chiudere l'abbonamento oggi è completamente opposto non significa che non dobbiamo essere bravi a vendere questo è rimasto ma significa incrociare la sua necessità quindi la persona entra non lo vedo come un portafoglio che sta entrando penso cosa posso fare di meglio per lui del mio meglio come posso rendere la sua vita leggermente più felice attraverso quello che io so fare meglio e se la sua richiesta non incrocia con la mia non devo vendere per forza glielo devo dire se la mia offerta non è e credo che paradossalmente così vengi anche di più e così vendo di più e così si crea un circolo virtuoso dove una persona che sente da me che io gli dico guarda che questa palestra probabilmente non è ideale per te non è indicata per te perché stai cercando A, B e C che noi non abbiamo magari gli consiglio quella di fronte rimane talmente scioccato deve essere vero non lo faccio per chiaro che se io considero che invece siamo la sua scelta giusta glielo dirò gli faresti un disservizio se no ma rimane talmente scioccato che si crea un circolo positivo per il quale ne parlerà o comunque io sono sicuro che a cercare di fare rendere la felicità della persona se su 10 a 1 a 2 a 3 ci riesco questo mi porterà molto di più degli altri 6 o 7 che ho perso è una dinamica che io ho attuato non solo in Fit Active non solo con i potenziali clienti oggi abbiamo 381 mila clienti 381 mila clienti non a tutti quelli che entrano ma anche ai miei francesi ma anche ai miei collaboratori ma anche ai miei fornitori è una dinamica di vita che da un certo momento in poi un po' alla volta ho iniziato ad applicare nella mia vita di tutti i giorni con tutti quelli con cui ho a che fare bellissimo e senti prima di riprendere la storia tu cosa insegneresti a uno che parte da zero che non sa marketing e vendita quale delle due deve apprendere prima marketing o vendita che poi sono molto simili sono quasi la stessa cosa però quale delle due prima allora la domanda se ti devo consigliare qualcosa non è semplicissima guarda forse ti direi che il fondamentale è la vendita anche se con il marketing ti porti la persona dentro e poi ci attui una vendita è difficile una buona domanda se ci stai pensando una buona domanda diciamo che è difficile veramente scendere poi io mi rimane la mente informatica se tu mi dici A o B io non riesco a glissarti e a dire servono tutti e due è binario io ti rispondo alla domanda guarda fondamentalmente penso che se dovessi partire dovessi partire ti direi l'aspetto commerciale quindi significa che un po' di marketing lo fai a livello base e quello lo fai comunque quindi partiamo senza se non riesci ad arrivare davanti alla persona sì se non magari quella parte la sviluppi dopo per farne arrivare di più però un minimo di marketing che può essere anche solo il passaparola base però quando ti arriva la persona la devi chiudere se stai partendo ogni dieci persone tu due tre le devi chiudere ok dopodiché inizi a creare volano inizi invece che a fartene arrivare dieci quindi investendo sul marketing a fartene arrivare venti trenta ok sono d'accordo sono d'accordo uno dei miei problemi è stato inizialmente focalizzarmi troppo esclusivamente sul marketing e zero sulla venta quindi arrivava tante persone non le chiudevano avevo abbastanza profitti per reinvestire di più ancora di come facevo in marketing quindi sono andato molto più lento secondo me quindi mi trovo molto in quello che dici ti faccio un'altra domanda perché non ci siamo ancora arrivati ma è giusto perché c'è tanto valore in questo quando è nata FitActiv quindi avevi questo chiamiamolo centro questo punto e da lì cosa è successo? da lì cinque anni dopo questa irrequetezza che ti menzionavo prima di cercare una via dove far sfociare a un certo punto nel 2012 apriamo la seconda struttura nel 2014 apriamo la terza struttura quindi dal 2006 al 2014 dal 2007 al 2014 7-8 anni per arrivare a tre strutture nel 2015 nasce il modello FitActiv il modello FitActiv nasce nel 2015 nel 2015 apro 4 palestre quindi negli 8 anni prima ne avevo aperte 3 quell'anno ne apro 4 e qui si vede la crescita esponenziale se lo mettiamo in un grafico cartesiano oggi sei a 130 126 126 126 oggi praticamente è tutto sempre esponenziale bravissimo esatto se ne mettiamo su un grafico risulta proprio una curva esponenziale e quindi nel 2015 parte FitActiv parte il progetto di FitActiv 4 palestre aperte e parte con una concezione che era completamente diversa rispetto a quella che era la mia prima struttura la prima struttura era una palestra classica qui importo in Italia dei modelli che esistevano già in Germania da tanto tempo la Germania è un mercato molto evoluto nel fitness rispetto a quello che è in Italia che sono dei modelli di low cost quindi sostanzialmente un valore dell'abbonamento molto accessibile aperte 24 ore su 24 lo importo in Italia e lo personalizzo con 4 5 tratti caratteristici dell'essere italiano che io ritenevo essere insomma importanti da applicare e da lì quell'anno lì nel 2015 ripeto apriamo 4 strutture e abbiamo un boom di iscrizioni di iscrizioni e lì quanto fatturavate più o meno? non mi ricordo più non te lo so dire un milione per struttura principalmente no no meno 700-800 mila euro per struttura poi tieni presente una cosa nel 2015 apriamo 4 strutture e quando apri non sei a regime noi arriveremo al 700-800 mila euro struttura nel 2016 ok chiaro quindi un anno dopo quindi in quella fase lì in realtà fatturavamo ancora meno apriamo queste 5 strutture devo anche dire che scusami queste 4 strutture come le apriamo? le apriamo grazie a dei finanziamenti bancari al fatto che nei 7 anni precedenti io mi ero reso molto bancabile con lo storico delle entrate uscite con i bilanci e roba del genere bilanci pagamento di tasse modelli Udinc che per la mia età e per quello che facevo erano importanti delle 4 strutture 3 vengono aperte attraverso finanziamenti bancari uno c'è la finanzia la banca popolare di Sondrio uno è Unicredit e una banca intesa da lì comincia il volano praticamente che ci ha portato poi negli anni successivi a avere delle medie di 14 15 aperture l'anno poi 20 poi 25 quest'anno forse sarà il nostro record di aperture con più di 30 aperture in un anno e senti la domanda adesso sono spontanea quanto ha fatturato nel 2023 e quanto fatturerà secondo te quest'anno secondo il trend Fitactive il 2023 l'abbiamo chiuso con un fatturato aggregato di 83 milioni di euro tanta roba quest'anno 100 sì non vorrei fare previsioni che poi però potremmo diciamo arrivare ai 100 milioni di euro di fatturato aggregato ok adesso non so se puoi dare queste informazioni ma ce le devi per forza te le chiedo quindi sarà un po' un vantaggio anche per i competitor però come funziona il modello di business di Fitactive cioè voi avete 380 mila iscritti sono tantissimi sì al 30 giugno avevamo 380 mila e qualcosa iscritti ok e la mia domanda è questo fatturato potrei fare due conti veloci no 19 euro al mese però aiutami tu voi quando queste persone entrano è quello il core business 19 euro al mese o l'annuale magari se fate annuale oppure fate poi degli upsell sopra nel senso uno ha bisogno della nutrizione vendiamo un pacchetto di non so 1000 euro 2000 euro nutrizione te lo potrei chiedere andando lo potrei sapere andando in palestra provando però te lo chiedo come una scorciatoia ci sono dei business collegati oppure per il momento è qualcosa che non fate allora intanto quando ti iscrivi da noi facciamo solo abbonamenti annuali 19 euro e 90 al mese hai il fitness illimitato 24 ore su 24 ho la possibilità di accedere a tutte le strutture aperte quelle che apriranno senza limiti di frequenza senza limiti di permanenza se sono iscritto qui potrei entrare a barcellona esatto poi abbiamo dei servizi ulteriori quindi abbiamo i corsi di gruppo le pedane vibranti le lampade abbronzanti la poltrona massaggiante e le bevande energetiche tutti i servizi sono illimitati ogni servizio ha un suo prezzo ulteriore mensile ok quindi fondamentalmente le persone che vengono da noi prendono 19 euro e 90 di servizio base più tendenzialmente aggiungono uno o due pacchetti noi facciamo in modo cerchiamo di fare in modo quasi sempre di proporre un abbonamento all inclusive che significa con tutti i servizi compresi agganciandoci chiaramente delle promozioni quindi significa che magari invece che pagare tutti i servizi ne paghi due o ne paghi tre o ne paghi la metà di uno o quant'altro e quindi questo ci porta fondamentalmente ad avere a fare del cross selling certo e quindi a portare la media abbonamento annuale a certamente più di quelle che sono 19 euro e 90 al mese a persona per quanto riguarda gli altri servizi collaterali nutrizione vendita magari di merchandise osteopati magari osteopata abbiamo dei sistemi di organizzazione che ci portano a offrire dei servizi ma fondamentalmente quello che è diciamo la vendita collaterale di altri servizi non collegati al nostro core business avviene in percentuale bassissima quindi non è il grosso del fatturato no il grosso del fatturato è il grosso ti parlo del 95% del fatturato è fitness più servizi aggiuntivi che sono quei 5 servizi che ti ho menzionato prima tanta roba e adesso vorrei chiederti chiaramente voi avete un processo di vendita giusto anche quando tu mi dicevi io quando arriva un cliente un possibile cliente cerco di capire la migliore soluzione magari lo mando di là io immagino che tu parlavi il tuo team e chi lavora dentro i vari e come avviene questo secondo me è la parte più interessante a fare un centro o due uno ci arriva da solo ma se poi non crei procedure non crei sistemi di formazione sistemi di recruiting sistemi di esclusione nel modo giusto chiaramente qui potremmo parlare 16 giorni siccome anche daremo troppo valore per una cosa che qui mettiamo gratis ma a grandi linee no ti racconto come cioè come voi formate le persone dentro sinceramente non ci sono grandi segreti ok allora chiaro bisogna creare degli standard io sono vengo dall'ambito informatico sono del segno della vergine la mia mente è fatta come un foglio excel dobbiamo creare degli standard dobbiamo creare delle procedure applicare dei protocolli delegare il protocollo a delle persone ho talmente creato questi sistemi che io oggi non mi occupo più della parte commerciale sono completamente staccato dalla parte commerciale non non presiedo non non partecipo più ad una riunione commerciale da qualche anno io ho una responsabile commerciale che si trova due volte al mese con un team commerciale dove ho degli area manager dove ho anche dei creativi dove ho volutamente dove ho perché il creativo sarebbe più sul marketing ma l'abbiamo volutamente messo seduto a quel tavolo dove ho degli amministratori di 20 25 strutture o insomma delle personalità di rilievo del mio gruppo che si mettono lì e studiano gli aspetti commerciali per i tre mesi successivi dopodiché la stessa cosa avviene per il tavolo del marketing tu intendi target obiettivi di numero di persone obiettivi di chiusure sta roba qui esatto ok a me arriva un report conclusivo che per la verità manco lo guardi guardo rapidamente perché sono ho fatto tutto questo proprio per delegare a persona di fiducia questo ci ha portato quindi ad avere una struttura altamente ben costruita da un punto di vista del organigramma e quindi riusciamo a comunicare alle nostre 120 sedi nelle quali lavorano più di 400 persone in reception e commerciale in maniera molto rapida approfondita veloce forniamo documentazione per ogni dinamica commerciale in maniera tale da rispondere a qualsiasi tipologia di richiesta e se c'è una cosa che non abbiamo pensato va su ad un responsabile che sale su ad un altro responsabile che arriva alla direzione commerciale la elabora e risponde a tutti quindi miglioriamo attraverso anche la singola receptionist di una singola struttura che fa una domanda o che pone un quesito alla quale nessuno ha risposto e lo riusciamo a ramificare bene questo è messo in procedura anche il modo in cui si poi si ramifica questa roba assolutamente sì quindi ha creato un ecosistema che si autoalimenta da sola come un'intelligenza artificiale che migliora che migliora da sola questo secondo me è la cosa più affascinante di tutto e ti dico di più secondo me la cosa più affascinante ancora è che è talmente strutturato in maniera automatizzata tutto ciò che io scopro a volte che stiamo aprendo una determinata palestra in un determinato luogo perché vedo la pubblicità su facebook addirittura pensa te quindi anche il modo in cui aprite palestra hai trovato hai messo in procedura anche come capire se quello è il punto giusto come capire come comprare l'immobile se lo comprate non so magari ne parleremo come mettersi le persone dentro come capire quando è il momento giusto tutto quanto tutto standardizzato ogni volta che facciamo un lavoro per più di tre volte che non è standardizzato ci fermiamo creiamo lo standard creiamo la procedura protocollo deleghiamo significa questo lavoro qua è nuovo l'abbiamo rifatto tre volte ora bisogna rifarlo ok le prossime lo faremo così così mettiamo questa parte del server ok te ne occupi tu ok quindi lo deleghi anche che lo deve fare assolutamente a me arrivano sul mio tavolo le eccezioni arrivano le eccezioni cosa facciamo in questo caso che non è previsto sì gli arrivano le eccezioni c'è l'immobile molto bello il cui costo affitto è fuori dai range previsti dalla nostra forchetta prevista allora qualcuno che diciamo lo vuole sponsorizzare qualcuno che ci crede particolarmente prende il foglio in mano con la mia assistente personale vengono da me e ne discutiamo e allora vediamo se in quel caso lì uscire fuori e fare l'eccezione ho fatto un esempio di un'eccezione perché il mio invece core business la mia il mio focus principale di ogni giorno deve essere sull'innovazione fantastico secondo me questo pezzo è da rivedere 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 è stra fondamentale e ti chiedo una cosa come si può definire a livello di prezzo Fit Active è un low mid mid cost allora guarda è chiaramente un low cost noi siamo un po' passami il termine lo zara dell'abbigliamento il discount della grande distribuzione quindi 19 euro e 90 è veramente abbastanza accessibile come valore al mese altrimenti diciamo che hai altri problemi rispetto a quello della palestra è anche vero che quando entri nelle nostre strutture rimani un po' stupito dalla qualità sì perché c'è un ottimo rapporto qualità prezzo e quindi fondamentalmente ti si crea un attimo un contrasto nella percezione ti do un feedback guardando il marketing che già saprai sicuramente perché probabilmente l'avete studiato che già lo comunica il marketing cioè lo comunica il fatto che sembra è una palestra di qualità nonostante ancora non abbia mai messo piede io nella palestra comunque dal marketing si capisce che la cosa è di qualità anche se magari c'è un prezzo più basso e ti ho chiesto perché io credo che sia molto importante soprattutto perché secondo me in tutti i business ma soprattutto perché siete più low cost rispetto che ne so ad una virgin credo no avere procedure ancora più specifiche perché altrimenti i margini vengono disintegrati non lo so anche questo non te l'ho chiesto che margini avete a grandilie guarda allora io ho una chiamo mall chiamano mall io io non ti ho detto il modello di business di 126 strutture 126 palestre un'altra 20-30 apriranno ce n'è una parte 50-55 che sono detenute al 100% dalla mia holding da voi infatti e un'altra settantina 75 che sono detenute al 51% il 49% è del franchisee che ne fa anche l'amministratore quando il franchisee viene a parlare da me dico sempre che con una palestra non si diventa ricchi magari fai una cosa che ti piace fare fai una roba che dai un po' sfogo a quello che sarebbe stata la tua passione ma con una singola palestra non si diventa ricchi noi abbiamo un margine operativo lordo che può essere all'anno di 60-70-80 mila euro e quindi poi da lì insomma c'è la tassazione per singola palestra giusto? per singola palestra tieni presente anche che nei primo anno due anni paghi insomma quelli che sono i debiti accumulati certo ma è anche vero che sono attività che avendo una alta replicabilità una facile replicabilità proprio perché gestite quasi in maniera chirurgica no? perché veramente forniamo tantissimi strumenti che tu puoi utilizzare e ogni cosa è schedulata e creata una procedura a sé è molto più semplice di farlo da soli assolutamente poi ne hai tutti i vantaggi dell'economia di scala molti nostri francesi hanno fatto la seconda la terza la quarta struttura io tendo a lavorare molto di più con chi è già franchisee ora recentemente addirittura abbiamo chiuso il franchising e quindi quando un franchisee inizia a avere due tre quattro cinque strutture se fai i conti iniziano a diventare diciamo cioè tu gli dai una macchina già vogliate scalabile e quindi quando capisci come si fa con una io divento un tuo franchisee capisco come si fa una volta lo posso fare cinque sei sette volte giusto? con una particolare attenzione non faccio aprire la seconda la terza la quarta se non stai gestendo la prima bene se non hai una situazione debitoria fluente corretta esatta se gli impegni che sono stati presi non vengono rispettati quindi il mio franchisee per avere la seconda la terza la quarta deve avere una situazione completamente a posto di quella precedente delle precedenti chiaro e senti come avete chiuso il franchising adesso? questa è una domanda articolata sei sicuro che vuoi sentire la risposta? se ci fosse una cosa principale quale sarebbe? allora dal 2024 è stato chiuso il franchising Italia si può fare all'estero il franchising Italia è stato chiuso perché siamo divenuti un'azienda importante grossa per la quale noi fino al 2023 insomma facevamo utilizzo del credito bancario e grande parte degli istituti bancari noi poi lavoriamo con due specificatamente ma grande parte degli istituti bancari chiede la garanzia di MCC medio credito centrale superando certi parametri MCC non garantisce più significa che fondamentalmente troppo rischioso per loro probabilmente è che proprio non è previsto perché lo fanno per le piccole medie aziende ora non ti saprei dire noi siamo fuori almeno su un paio di parametri uno specificatamente che il nostro fatturato aggregato supera il parametro previsto da MCC quindi non contro garantisce più alle banche e di conseguenza la banca ha chiesto la garanzia e chiede la garanzia o a me personalmente o alla mia holding e quindi diventa un rischio molto elevato a fronte di un qualcosa fondamentalmente che oggi non è particolarmente necessario per quanto riguarda il mio gruppo cioè un capitale iniziale da inserire dal franchisee e quindi ad oggi se io dovessi mettere garanzie più rischio più faccia più debitori più altro è diventato un peso sulla bilancia troppo importante e un rischio troppo importante per il quale in questo contesto mi sentirei di essere sereno capisco credo di aver capito bene il concetto e quindi quello che fate voi in Italia è apro con le mie finanze senza andare a prendere finanziamenti o fidio in questo contesto qui che è il contesto del 2024 fondamentalmente sempre l'approccio alle banche ma senza medio credito centrale ok chiaro e all'estero avete aperto Romania Spagna Germania mi hai detto anche no no Germania no Brasile Brasile Svizzera Germania avevi preso ispirazione tempo fa quando avevi aperto Fitactive come scegliete i paesi in cui perché Romania perché Brasile perché Spagna ma sempre parlate i tuoi algoritmi si hai creato qualcosina allora c'è un algoritmo che si chiama Brasile che mia moglie è brasiliana ah ok quindi semplice è molto semplice non è l'ultima cosa dell'algoritmo però non c'entra niente questo è molto semplice e quindi stiamo aprendo lì con questo d'America è un mercato che fa abbastanza gola no nel senso vedremo è un mercato maturo molto competitivo è una delle nazioni con più palestre al mondo il mercato dell'estetica e del fitness lì è molto avanzato non credo che arrivando noi portiamo chissà quale novità credo però che ci sia una richiesta una domanda elevata e quindi andando noi a collocarci nella zona in cui siamo potremo lavorare anche noi poi se dovesse andare bene questa proveremo magari con una seconda poi con una terza e chi lo sa magari sviluppare il franchising anche lì in Svizzera siamo partiti a Lugano perché è molto vicino alle zone nostre quindi Milano Como e quant'altro è stato un passo arrivare in Svizzera un passo dal punto di vista della distanza molto complicata molto complicata a livello formale a livello formale a livello di costi la Svizzera costa tantissimo e di conseguenza abbiamo anche necessità di organizzarci bene però ce la stiamo facendo con i nostri tempi Barcellona è partita perché un franchisee italiano ci aveva espresso la volontà di aprire a Barcellona perché si voleva trasferire lì abbiamo analizzato il mercato abbiamo visto abbiamo fatto e siamo partiti a Barcellona complicatissima ci abbiamo messo due anni e mezzo ad aprire tornassi indietro non so se lo rifarei dopo due anni e mezzo adesso è partita e poi fortuna sta andando bene non ti dico molto bene ma bene poi le tasse sono anche un po' più basse non siamo arrivati al punto delle tasse perché abbiamo fatto talmente tanti investimenti che non ci sono tasse per un bel po' non ci saranno tasse Romania perché nel mercato dell'est è un paese in forte sviluppo sia da un punto di vista economico globale sia da un punto di vista proprio del fitness è un paese nel quale il fitness si sta sviluppando ora sta emergendo ora i report che ho avuto modo di analizzare ne parlavano chiaramente e quindi come vivere la situazione dell'Italia dieci o quindici anni fa quindi stiamo investendo lì tra l'altro la tassazione era più bassa quindi questo era stato però nel fitness l'hanno alzata recentemente solo nel fitness nel fitness è passata l'IVA dal 5 al 19% adesso quindi a gennaio 24 e quindi vabbè ma non importa perché comunque questo è anche indice del fatto che si sta affermando il mercato però era solo fitness 5 perché io da un po' che avevo l'azienda lì era solo fitness ok e tra l'altro gli stipendi lì sono anche più bassi credo non so gli stipendi sono più bassi quello che sto vedendo è che la mano d'opera costa meno anche costruire diciamo l'impresa lì costa meno è anche vero che ogni volta che vai all'estero è un po' come ricominciare da zero e conseguentemente le difficoltà vissute all'inizio le rivivo da capo quindi non è un gioco da ragazzi perché magari costa un po' meno e costa un po' meno il personale anche perché poi queste cose vanno tutte in proporzione cioè è vero che costa un po' meno il personale ma è anche vero che magari incassi un po' meno l'abbonamento costa meno come in Svizzera al contrario il personale costa molto di più ma l'abbonamento in franche costa di più l'affitto costa di più quindi è un po' tutto ti dico sempre nel universo nel mondo la somma fa zero quindi dove c'è più da una parte dall'altra torniamo sempre lì e anche perché siamo persone sviluppatori quindi uno zero è binario allora detto questo un'altra domanda che ti faccio secondo te io credo di sapere e anche credo che tu hai già dato la risposta però siete la palestra l'azienda numero uno in Italia sicuramente tra le prime venti in Europa per numero di se non erro per numero di punti giusto? si e credo anche a questo punto anche per numero di iscritti non siete lontani allora allora sì esatto corretto allora noi siamo da cinque anni non ce lo diciamo da soli ok ce lo dice Deloitte Deloitte ogni anno stila l'European Fitness and Health Markets Report dove a livello europeo menziona tutte quelle che sono le realtà più importanti d'Europa Europa Middle East quindi anche diciamo Turchia e altro noi siamo da cinque anni la prima catena di palestre in Italia per numero di palestre aperte da quest'anno siamo entrati unica catena italiana nella top 20 europea per tre parametri numero di palestre aperte ok per fatturato e per numero di iscritti siamo non mi ricordo esattamente diciamo rispettivamente quale voce quale parametro ma siamo diciottesimi diciannovesimi e ventesimi in questi tre parametri ora non mi ricordo quale quale classifica per quale parametro e qui tanta roba non è che mi sto autoreferenziando c'è lì fuori una statistica ti faccio questa domanda secondo te rispetto alle altre in Italia qual è se dovessi scegliere non è uno ma se dovessi scegliere il primo elemento il più importante e credo che tu abbia già dato la risposta secondo me però te lo chiedo direttamente che ha dato ambito a questa crescita questa scalabilità questa duplicazione così rapida quest'anno 40 è stata prendo una trentina trentina ok ti devo dare una domanda un po' cioè ti devo dare una risposta un po' particolare te la do eh vai spara guarda io credo che è molto condensato nel nostro claim che è allenare la felicità io credo che dal 2016 quando ho cambiato il mio modo di essere mano a mano e quando ho iniziato a pensare che avrei potuto comunicare verso la felicità del cliente verso la felicità del mio francesi avrei potuto fare qualcosa di meglio per gli altri avrei potuto rendere più semplice la vita degli altri attraverso quello che so fare meglio che è il fitness e la vita dell'altro intendo anche il francesi si è creato un volano per il quale questa cosa è stata un po' vissuta e sentita siamo riusciti a comunicarlo le persone lo percepiscono i francesi lo percepiscono e ci ha fatto da circolo virtuoso io impongo delle regole al fine che il mio francesi abbia felicità in quello che fa e al fine di appunto magari rapidamente cercare di e voler di aprire la seconda la terza la quarta l'aspetto economico è veramente solo una conseguenza quando apro una struttura in franchising come ne ho aperte tante fondamentalmente sto solo rischiando inizialmente per un anno o due dopodiché forse raccoglierò qualche frutto e questo rischiare significa mettere da parte potenzialità del mio profitto significa dire caro francesi e questo significa andare nella sua felicità che poi diventa del collettività significa dire caro francesi credo in te e tu credi in me se guadagneremo 100 poi ce lo dividiamo ma ad oggi non hai costi non hai sovrastrutture sovrapprezzi anzi ti dirò che se io ottengo il miglior sconto possibile per esempio dal mio fornitore di attrezzi che è Matrix JHT io te lo ribalto completamente perché il mio obiettivo è che tu arrivi velocemente ad utile non che io faccia un markup su questi attrezzi perché ho ottenuto un ottimo sconto perché sono il miglior venditore italiano e tu guadagni meno e poi magari duri meno no? se non sei felice e quindi non è il mio termine e tu magari la vivi male allora io conto che tu la vivi bene questo è è veramente su 126 casi attuali e ti ripeto alcuni li abbiamo già firmati ci sono abbiamo credo 13 o 14 cantieri in corso quindi sono di più ti dovrei dire su 150 casi però va da solo quindi non sai nemmeno non lo so dovrei aprire un file Excel dovrei aprire un file che ho sul cellulare che ci sono state delle problematiche anche con Francia Easy me ne vengono in mente 3 4 5 forse forse a 5 non ci arriva che è pochissimo su 126 ora in questo momento me ne vengono in mente 3 ti devo dire 5 perché qualcuna me la starò dimenticando però sono state situazioni estreme e quindi ti ripeto questa dinamica qua secondo me ci ha portato al successo questa è una dinamica che io ho fatto mia fondamentalmente facendo formazione ma infatti te lo stavo per chiedere perché due o tre volte hai menzionato questo 2016 che è cambiato qualcosa cosa è successo? nel 2016 da lì in poi ho iniziato a seguire una formazione non attivante al lavoro mia personale di ambito culturale leadership generica che mi ha portato ad essere molto più elastico di mente mi ha portato ad essere più attento all'ascolto e capisco che questo ha contribuito molto alla crescita in generale mia e di quello che insomma con il quale è il lavoro con il quale ho a che fare e questo ha a che fare con una domanda che ti avrei fatto ovvero con 400 persone giusto mi hai detto? sì la leadership credo che sia strafondamentale è quello che fa da collante va bene le procedure va bene tutto ma poi la leadership fa la differenza ti dirò mi ricollego sembra al 2016 poi io ti dico un anno ma è un procedimento è un processo di maturazione anche di evoluzione personale chiamiamo l'epifania che ha scatenato un non è che quel giorno tale ho avuto l'illuminazione sul percorso di Damasco come San Pietro prima ero molto più convinto di avere sempre ragione cioè oggi in realtà 126 strutture 83 milioni di euro di fatturato sono molto più attento all'ascolto oggi che non ieri quando facciamo le riunioni di gruppo faccio le riunioni non perché devo dire la mia idea parlo più ma magari parlo anche però sono al tavolo per arricchirmi delle idee degli altri formano i mattoncini il costrutto del mio essere quello che ascolto dagli altri e la mia idea non è detto che sia la migliore è una idea poi ci raccogliamo costruiamo formo il mio pensiero sulla base di quanto ascolto dagli altri poi magari se c'è da prendere una decisione la prendo ma assolutamente ci arrivo nutrendomi dal contributo di tutti assolutamente senti che tipo di leader sei tu in due o tre parole vediamo guarda sicuramente sicuramente lascio molta libertà quindi mi fido e mi affido quindi una volta che ti do una delega in mano sono predisposto mentalmente al pensare che tu possa fare qualche errore e ci può stare sono predisposto anche a pensare però che se sei uno in gamba che ha volontà umiltà fai un errore una volta fai un errore due dopodiché trovi il modo nel medio periodo diventerai più bravo di me perché se io ero un bravo venditore in reception perché stavo lì tante ore al giorno oggi non lo sono più oggi i ragazzi che lavorano per me sono più bravi sono molto più bravi di me e allora perché dovrei mettermi a fare io una cosa nella quale invece posso andare lì quasi e rimparare e questo lo applico un po' in tutte le dinamiche è il motivo per il quale non vado alle riunioni commerciali è il motivo per il quale nelle riunioni marketing seguo solo gli aspetti big significa i rapporti con Publitalia significa i rapporti con insomma dove ci sono investimenti molto importanti perché delego delego lascio libertà mi fido e mi affido tanta roba questo qui ripeto dovremmo farlo pagare questa roba qui dovreste mandarci condividere dappertutto solo per pagarci quello che state ascoltando anzi per pagare a lui quello che state ascoltando faccio un'altra domanda prima di arrivare alle domande conclusive marketing non ne abbiamo parlato marketing vuoi fate molti investimenti se posso chiederti quanto è l'investimento su il 2023 83 milioni mi hai detto 2023 quanto incide l'investimento il budget marketing guarda faccio fatica un po' stimartelo ti posso dare ti posso dire che siamo sto sommando un po' di cose siamo oltre i 5 milioni credo di market comunque è buono 83 milioni in totale è vero che dopo ci sono i margini tante altre cose non si diranno tieni presente una cosa in questo non ti considero le ore uomo le persone che lavorano ti sto parlando di soldi puri spesi in advertising cartelloni pubblicità online queste cose perché se ti devo calcolare quanto tempo le persone stanno a diciamo a rapportarsi con i nostri clienti è tanto è tanto di più esatto e comunque il marketing fa da padrone insieme alle vendite no? e senti invece in televisione quanto spendete più o meno? in televisione l'anno scorso abbiamo speso circa 900 mila nel 2023 quindi comprende sia sky che mediaset che le altre che non ho menzionato prima giusto? sì ok diciamo che il blocco importante rimane pubblicità ok quindi mediaset giurerai ah poi se ti devo calcolare anche che siamo sponsor del Monza superiamo il milione ah siete anche sponsor di questo non lo sapevo siamo sponsor del Monza siamo passati da essere bronze sponsor del primo anno poi silver sponsor ora da quest'anno siamo main sponsor del e c'è anche nella maglietta quindi? no nella maglietta no perché lì diciamo è lo sponsor proprio ufficiale ok noi abbiamo tutta una serie di visibilità tranne la maglietta quanto costa se posso chiedere essere lo sponsor di una squadra di serie A allora comparire sulla maglietta si parte dai 500 mila euro in su l'anno l'anno e noi non ce lo potevamo permettere quello che abbiamo fatto noi è intorno ai 200-200 qualcosa ok perché non è poco diciamo non è una cifrettina così ok sì è una cosa che non ho mai fatto chiesto ad altri e sto capendo più o meno come funziona quel mondo perché non abbiamo mai tutto online per il momento basta che non basta ovviamente non basta mai chi è che decide il marketing della vostra azienda come allora per tanti anni me ne sono occupato io ma come ti raccontavo prima ho due tre collaboratori fidati molto bravi ai quali io man mano ho lasciato anzi neanche man mano è stato quasi insieme nel senso che il marketing e la comunicazione che facciamo sia nelle fasi iniziali che poi anche successivamente un po' ora meno ora meno ho voluto crearlo un po' scollegato dal fitness noi le prime campagne pubblicitarie che facevamo quasi potevi guardare la campagna e non capire che si trattava di una palestra era volutamente fatto così un po' per per diciamo comunicare più i nostri valori che non quello che facevamo quindi più il perché facevamo qualcosa che non come lo facevamo man mano siamo diventati un po' più commerciali e da quel punto di vista oggi il marketing lo seguono ti ripeto il mio ufficio creativo che è proprio lì dove lavoro io a 5-6 metri e la responsabile marketing si fanno le riunioni mensilmente si decide decidono uno o due riunioni mensilmente decidono come impostare diciamo la comunicazione e la realizzano loro in maniera autonoma non solo non solo come realizzare la comunicazione ma questi ottimi collaboratori dei quali ho la fortuna di fregiarmi pensano anche cose comunicative innovative quindi non solo come cambiare la grafica oggi domani come cambiare il video ma anche quali nuovi mezzi utilizzare quindi io parte o gran parte del successo di Fit Active lo devo anche a tutti coloro che lavorano con me ogni giorno sono le persone che fanno l'azienda non nel contrario che ti dicevo come ti dicevo prima ognuno nel loro ambito è probabilmente molto più bravo di me e questo è quello che dovrebbe a cui dovrebbe ambire un imprenditore perché all'inizio è difficile fare lo switch è difficile tu sei da solo fai tutto da solo come reception fai tutto tu e poi sei il più bravo su tutto è difficile cominciare a dare a delegare credo che sia lo shift più importante è difficile guarda il momento più difficile della delega ti ho parlato del software quando sono partito lo stesso software che io ho fatto a 24 anni è lo software che oggi usiamo in 126 palestre è quello che apriremo è lo stesso software che stiamo adattando per la Spagna per il Brasile eccetera eccetera io ho continuato a sviluppare il software da quando sono partito dal 2007 fino al 2019 io mamma mia a scrivere if then else lo faccio anch'io ogni tanto abbiamo dei software che sviluppiamo noi quando nel 2019 non ce la facevo più significa che il tempo che intercorreva tra quando mi arrivava una richiesta e quando la eseguivo era diventato esageratamente alto e quindi creavo un di servizio all'azienda ho dovuto per forza strappandomi il cuore dare le chiavi d'accesso a un programmatore che ho assunto è stata quindi eri l'unico proprio fino al di mese mamma mia ero l'unico a creare il software io lo scrivevo ho dovuto dare le chiavi d'accesso a questo è stata lì l'apice della mia delega lì è stata perché era come prendere un figlio e dire tieni capisco seguimelo te no che per cui la passione dello sviluppo non so te ma a me non è mai neanche a me sono lì ancora è come guidare due mesi che non guidi sei lì e sai sviluppare neanche a me ma è passata mi piace tantissimo oggi come ti raccontavo prima oggi questo mio sviluppatore che è diventato il responsabile dell'IT di tutta la catena ovviamente è incommensurabilmente più bravo di me certo non siamo minimamente paragonabili e quindi è vero mi sono dovuto strappare il cuore ma è vero che a livello di beneficio globale non c'è paragone e poi quando corregimi se sbaglio ma quando lo fai quando comincio a delegare una volta lasciare un po' andare questa cosa dopo diventa un po' dipendente oh cavolo però è meno peggio di quello che pensavo anzi mi ha liberato mi ha semplificato la vita ha dato lavoro a qualcuno e stiamo scalando quindi è molto ti racconto questa roba mi arrivano le mail per tanto tempo per tanto tempo ma ancora ora mi arrivano le mail il mio lavoro è a chi posso inoltrare quando trovo una mail che va a finire in un ambito dove non ho a chi fare inoltre cazzo mi tocca farlo a me cazzo questo modo lo devo fare io uno e due dico eh no ma devo strutturare un qualche cosa che c'è chi si gestisce sta roba qui perché qua abbiamo una falla se lo devo fare io cavolo tanta roba anche questo eh da riascoltare questi ultimi 30 secondi 20 volte senti eh altre due domande stare qui altre due ore come dico a volte in questi podcast ma ehm una domanda tu avrai tantissimi eh non è questo il tipo di podcast su cui parlare di questo ma siccome è interessante sono vent'anni quanti sono? no eh sì quasi vent'anni 17 18 sì insomma 80 milioni l'anno l'anno scorso magari il 2022 saranno stati un po' meno e così via hai qualche soldo liquido credo da parte i soldi liquidi non vanno tenuti liquidi quindi eh che tipo di investimenti fai oltre all'azienda? allora ti rispondo ti rispondo ti rispondo sono contento di risponderti a questa domanda io ho molti meno soldi di quello che può sembrare mh non fatico ad arrivare a fine mese per l'amore di Dio ma ho sempre reinvestito tutto ok quindi non non tieni i soldi fuori su altri investimenti tutto in azienda ho qualche cosa qualche cosa di investimento ma non quello che uno può abbinare a quei milioni che senti lì perché ho sempre reinvestito tutto in azienda e cresce anche per quello così velocemente sì e cresco anche per quello ho fatto diciamo dinamiche di scala ho eh per dire la mia azienda ha 5 milioni eh di euro di capitale interamente investito che sono utili fondamentalmente non ridistribuiti all'unico socio che sono io li ho lasciati in azienda e li ho usati come volano ad esempio e non è un problema per me non la vivo proprio non sento questa dinamica anzi eh accenno anche per dire una roba che comunque per me è un vanto io ho avuto io ho avuto una verifica della guardia di finanza nel cominciata il 7 aprile del 2022 e finita il 27 aprile del 2023 un anno e 20 giorni dove mi hanno verificato 5 anni fiscali più uno solare il massimo possibile fatto i raggi X da testa ai piedi un anno un anno di verifica e dopo un anno e 20 giorni di verifica il 27 aprile si è conclusa eh a Milano nella sede della guardia di finanza del secondo nucleo operativo in via Ramusio con il maresciallo che mi ha fatto la verifica al a fianco c'era l'aiutante c'era il tenente colonnello e eh e anche la capitana era stata chiamata per l'occasione praticamente eh dicendomi complimenti Montefusco ce ne fossero imprenditori come lei quindi per me questo è stato un vanto noi siamo usciti con un saldo a zero tra diciamo quello che si chiama il pvc il processo verbale di contestazione e quindi per me è un vanto eh poter raccontare questa cosa ed è anche ti rispondo alla tua domanda è anche un una sorta di predisposizione dell'animo della persona al non essere avaro al non essere ingordo economicamente e al utilizzare il l'utile quello che si produce dall'azienda per far crescere l'azienda stessa voglio dire anche questo non è che vivo male assolutamente no assolutamente no ma è anche vero che io mi piace di più mi da più soddisfazione vedere vedere la mia azienda che cresce rispetto al mio conto corrente che cresca diciamo è più un discorso a lungo termine invece che a breve termine e ripaga sempre giusto con quei 5 milioni invece di rinvestirli magari ci potevi comprare uno yacht e invece te li sei rinvestiti e invece magari l'affitto tre giorni esatto e lo puoi fare comunque tanto yacht poi credo che se uno lo compra deve andarci lavora anche meno poi si vedrà sul futuro oggi mi diverte fare questo ok mi diverte il mio divertimento è quando vado in ufficio da me e programmo organizzo gestisco è un po' come stare nel mio yacht una cosa un po' strana magari è quello che dico sempre anche io mi attaccano molti haters per questo lavoro sempre io quando lavoro mi diverto anche se correggimi se sbaglio perché tu sei un altro livello completamente diverso che raggiungeremo sicuramente ma ci sono il 70% delle cose a volte per me non mi piace farle però mi piace il pensiero che le faccio per arrivare dove devo arrivare quindi mi appassiono come quando programmo è la stessa cosa e mi diverto anche quando non mi diverto perché sto facendo qualcosa che è quello che voglio fare giusto e qui mi collego a questa domanda perché io ti ho visto ho sentito da qualche parte non so se mi ha detto Mattia direttamente questa cosa ma tu dici che il burnout ce l'hai quando vai in vacanza giusto e lavori fino alla domenica ancora oggi no spiegami un po' il tuo stile lavorativo magari è un'informazione sbagliata non lo so no no è vero ce la prendiamo con lui se è sbagliato è vero allora c'è una virgola da aggiungere dal covid in poi mi sono preso la domenica libera ah ok ok quindi la domenica faccio domenica mattina faccio sport e poi comunque la domenica è sostanzialmente libera il covid è 2020 per tanti anni prima lavoravo ho lavorato anche la domenica lavoravo anche la domenica in vacanza dopo un po' di giorni in vacanza te li potrei dire nove dieci e per me cinque vedi per me cinque mi sono andato settimana scorsa in barca anche io ho fitto yacht qualche volta invece di comprarlo anche perché non posso permettermelo ancora ma cinque giorni il quinto giorno comincio a dare di matto devo tornare a lavorare perché sennò sembra di mi annoio non so perché cosa ecco quello che tu vivi dopo cinque giorni io lo vivo dopo dieci undici dodici al tredicesimo divento malmostoso divento no è vero cosa vuol dire malmostoso definisci malmostoso significa uno che col viso contrito che non ci puoi parlare che ogni cosa non gli va bene e quindi e quindi sì e a volte in quei dodici giorni cellulare non ne parliamo che chiaramente ce l'hai sempre in mano esplode no e quindi comunque hai qualcosa da fare però cioè di lavoro insomma ti capita però tendenzialmente cosa capita in quei dodici giorni che magari negli ultimi giorni cominci a guardarti attorno a seconda di dove sei a vedere se ci sono potenziali business mi sa che ti capita anche a te sì sempre quello quindi dici ma qua poi magari non fai niente però la mente ti va lì o comunque è una mente ma penso anche la tua che non può complessivamente in generale stare ferma allora ti dico solo questo la prima volta la prima giorno di settimana scorsa di yacht la prima cosa che ho fatto è cominciare a parlare con il capitano ma quanto costa questa barca quanto l'affitti che ritorno hai quanto è la prima cosa che ti sto subito a dire quindi ti capisco benissimo e quindi come funziona la tua settimana e cosa ne pensi del bilanciare la vita io ho un pensiero non so se l'ha mai sentito sul bilanciare no però prima di dirlo vorrei sentire la tua risposta cioè tu come metti insieme la vita privata tu hai una moglie giusto hai anche dei figli no non hai figli ok però hai una moglie hai una vita privata come funziona la tua vita guarda allora intanto mia moglie lavora con me siamo in uffici diversi però lavoriamo insieme quindi insomma vive anche lei un po' l'esperienza del anzi non un po' vive molto l'esperienza di Fit Active e quindi anche l'importanza insomma di essere presenti molto spesso io mi sono ritagliato degli spazi sicuramente ora mi alleno e cerco di avere alimentazioni un po' più curata e questo al netto di qualsiasi impegno lavorativo significa che le mia ora due la mattina mi alleno un toto di tempo pranzo e cerco di pranzare regolare quindi non evito di in quel contesto per esempio di non avere il tempo giusto per poter seguire un'alimentazione corretta poi tendenzialmente ho il mio tempo un po' così la domenica la sera quando arrivo a casa che invece per esempio mi sfondo di cibo la sera anche tu l'altra settimana quindi quello che a pranzo però vabbè però a pranzo ti serve anche per lavoro se mangi da schifo a pranzo il pomeriggio sei capocchi certo e poi diciamo che siccome mi alleno la mattina a pranzo arrivo bello carico diciamo mentalmente dico mi sono allenato ora è così e mangio bene non vuoi rovinare poi arrivo a casa e alle succede di tutto la mattina che ora ti alleni? la mattina tutti i giorni dalle otto alle nove ok tanto è aperta H24 quindi ci siamo ok e senti ultime due domande un consiglio per chi deve aprire la propria attività cioè un ragazzo magari o anche un trentenne quarantenne mettiamola così tu hai aperto attività 23 anni 24 non hai iniziato anzi anche prima perché avevi partito da IVA però un consiglio qual è il consiglio principale che chi parte da zero zero risorse economiche zero conoscenze zero tutto come quando sei partito probabilmente e come quando sono partito anch'io tu daresti a questa persona cioè quale sarebbe il consiglio numero uno il consiglio numero uno è quello che ho attuato io e attuo ancora attuo ancora ancora lo risottolineo ancora lo attuo a zero è 83 milioni sì e lo faccio sempre è di buttarsi è di cominciare di non aspettare che tutto sia chiaro e preciso nella mente di prediligere la velocità alla precisione è di non sapere esattamente dove una strada ti porterà non bisogna conoscere esattamente dove porterà inizia a percorrere questa strada credendoci poi potrebbe accadere che non vada bene torni indietro e ne provi un'altra credendoci a un certo punto la tua la scopri la trovi tendenzialmente bisogna buttarsi nelle strade dove si può essere sorretti dalla passione verso quello che si fa io difficilmente per quanto mi ci possa impegnare sarei mai diventato un buon pianista perché non ho passione per quella roba lì mi piace ascoltarlo ma non ho passione però se non sbaglio tu non pari di passione per dire perché molti secondo me la confondono questo tu hai iniziato ad allenarti dal covid però già avevi aperto la palestra non ero uno che si allenava tutti i giorni io ti parlo di passione perché la mia passione era organizzare esatto delle cose era costruire un modello che avesse un ritorno ti ripeto non economico ma un ritorno in apprezzamento da parte delle persone certo quindi quella era la mia passione quella la passione dovrebbe avere corregimi se sbaglio ogni imprenditore quella dovrebbe avere e lo devi incanalare verso quello che sai fare se vogliamo la mia passione iniziale è partita dal software dai siti web io ho fatto quella roba lì perché credevo che a quella piccola palestra avrebbe potuto tornare un beneficio e quindi conseguentemente anche i suoi clienti dal 2007 anche 2009 al 2012 insomma in questi se li vogliamo contare tre anni o cinque anni quando non ero amministratore insomma ho cercato tante altre vie e tante mi sono andate male e sono tornato indietro ma bisogna buttarsi ho aperto un centro fisioterapico che non ha funzionato ho aperto un ristorante che ho chiuso e non si è mai morto voglio dire no cioè molti pensano che uno mi tagliano una gamba se sbagli se sbagli lo rifai finché non funziona cioè cambi ottimizzi migliori e lo rifai continuamente giusto il problema è che molte persone mollano lasciano andare dopo il primo secondo tentativo no allora non funziona e invece continui per la strada finché non trovi la via giusta corretto sì sì assolutamente tanta roba e questa è una caratteristica comune che vedo tutti quelli che intervisto è una caratteristica super comune no continuare finché non tieni la via e come la tua strada ci insegna esponenziale i primi sei anni cinque o sei anni eri anche di più anche di più io ci ho messo per arrivare a sei cifre da zero tutto online facevo ci ho messo più di te nel senso alla sei cifre ci ho arrivato dopo tre o quattro anni a centomila euro che era quello a cui miravo probabilmente miravo troppo basso e poi invece da cento a un milione ci ho messo un paio d'anni sostanzialmente è esponenziale certo e quindi questa è una costante che vediamo in tutti invece no le persone pensano che deve arrivare a 83 milioni dopo tre anni magari ci arrivi ci arrivi però non dire mai di no ma è il punto che all'inizio è sempre più difficile è una cosa esponenziale bravissimo parole sante sposo ogni parola di quella che hai detto tanta roba e vabbè l'ho detta perché tu l'hai detta quindi due domande di mia moglie mia moglie Jessica prepara le domande ti invito a prenderne un paio e rispondere sostanzialmente sono sempre quelle lì giusto sono per le stesse domande ma sono molto cosa diresti al te bambino questa è quella più bella si vede che sono fatte da moglie da una donna sono molto più avanti io da ragazzino da bambino sono sempre stato bravino a scuola e avevo diciamo come una ottima reputazione da parte dei miei parenti insomma perché io ero uno in gamba sin da proprio da bambino mi ricordo che conoscevo la legge di Archimede quando avevo 6-7 anni e quindi avevano tantissime aspettative in me queste aspettative mi posavano sulle spalle c'è stato un periodo nel quale io non ho trovato una via di sbocco e non mi ero laureato e conseguentemente queste aspettative erano un po' cadute da parte delle persone i parenti le persone a me un po' più vicine nel senso che guarda Eddie no Eduardo Eddie ti chiamano Eddie guarda Eddie aveva queste capacità non le ha fatte fruttare oggi chiaramente questa visione non è più la stessa al me bambino dovrei dire di crederci sempre nelle mie capacità e di non basare la valutazione di me stesso su quello che pensano gli altri di me perché gli altri pensano di me se io vado bene o non vado bene in base a fatturato ma non è sempre così tanta roba anche questo da rivedere più volte super allora ti faccio l'ultima domanda bellissima e mi rivedo molto in te non voglio dire per la ventesima volta ma anche io andavo bene a scuola mi chiamavano sapientino quando avevo 5 anni i miei genitori perché come sapevo già scrivere un anno prima degli altri sono sempre andato bene a scuola e ho perso un po' e ho cominciato a giudicarmi anche a me perché tu ti dici perché non vai all'università è molto simile esatto è molto simile e siamo anche developer quindi ho detto che siamo fratelli siamo molto simili e a un certo punto perché non volevo andare all'università perché volevo i soldi volevo quagliare perché ho detto cavolo voglio i soldi mi do un anno poi vedo e mi sono messo a fare il vetraio questo e quell'altro poi mi sono messo a fare il developer e tutti mi dicevano prima di fare il developer e tutto il resto mi dicevano ma Giacomo ma tu uno come te ma che stai fattendo anche network marketing mi sono messo a fare vendevo il Kirby il Kirby non so se tu l'hai mai sentito ma non sapevo nemmeno cosa fosse sono stupito dalla analogia con quello che è capitato a me dicevano la stessa cosa e mi sentivo un po' perso in quel momento poi invece con lo sviluppo on value ho cominciato a riprendere un po' di autostima poi l'ho ripersa perché mi sono messo in proprio e vendevo come te CityWeb ma svendeva a 150 probabilmente ero un po' più indietro a livello commerciale di te è molto simile mi rivedo molto in questo assolutamente quindi tanta roba ti faccio quest'ultima domanda per questo super episodio concludiamo in bellezza anche se già così è fantastico la domanda che faccio a tutti cosa vuol dire per te Eduardo far parte dell'1% guarda far parte dell'1% sicuramente da un punto di vista un po' venale insomma è far parte di quelle persone che possono permettersi di essere all'1% di redditività un percento di reddito insomma di modello unico nel modello unico dei redditi insomma quindi una certa cifra ma questa è un po' venale in realtà io considero che arrivare all'1% di reddito cioè essere quella parte di popolazione che arriva all'1% ad ottenere una certa fascia di reddito insomma ci si arrivi solo se tu hai sei nell'1% di una determinata caratteristica che è quella di combattere per le proprie idee credere in quello che si fa e non arrendersi sembra una cosa stupida o detta ridetta ma una la principale caratteristica che devi avere è riuscire a lavorare sotto pressione sapendo che questa pressione tenderà ad aumentare sapendo che l'asticella dell'ostacolo si alzerà sempre di più solo come dicevamo prima l'1% non molla solo l'1% dice oggi ho questo ostacolo in più un modo una soluzione per oltrepassarlo girargli attorno la trovo e non ti nego che tante volte ho rischiato anch'io di finire nel 99 di mollare rischiare di mollare mi fermo qua ne ho aperte x mi fermo qua ho fatto questo mi fermo qua e che cosa mi mancava per fermarmi lì magari non arrivavo a fine mese arrivavo a fine mese che cosa mi sarebbe mancato non avrei sistemato i miei questioni se avevo dei debiti negli anni successivi ma la predisposizione l'ambizione devi averlo un po' innata e dici no io non mi voglio fermare qua a me piace fare questa roba qua ho questi ostacoli troverò soluzioni li passerò e sono oggi attualmente cosciente che non so se domani o dopo domani ma un altro ostacolo più complicato ancora sta per arrivare o arriverà io non me lo auguro ma devo essere predisposto anzi magari se non arriva non sto agendo abbastanza sto ancora puntando quindi la caratteristica dell'1% è credere nella propria nelle proprie idee nella propria passione mettersi in luce e trovare soluzioni agli ostacoli crescenti che ogni x tempo si porranno davanti a me tanta roba la pressione è una cosa positiva lo dico sempre anche quando metti pressione a uno che può aiutare che deve comprare qualcosa che devi chiuderlo metti pressione la pressione è una cosa positiva la pressione è sempre fatto bene a tutti quanti eduardo super iper intervista questa qua ragazzi se vi è piaciuta come dico sempre vi è piaciuta perché l'avete vista tutta un'ora e quaranta credo quasi un'ora e trenta di puro contenuto ripeto questa roba qui dovrebbe essere a pagamento quindi condividetela mettete mi piace seguiteci sui vari le varie piattaforme di spotify tutto il resto youtube di podcast e questo qui eduardo eduardo ti ringrazio mille per questo super episodio e ci vediamo nel prossimo episodio di un per cento ciao a tutti grazie grazie